Mario del Giglio Ritrovarsi, colloqui tra fratelli spirituali attraverso Mario del Giglio, guida. Ora voi mi chiedete, chi è che permette il contatto con voi? Ma noi non si viene da voi, come voi non venite da noi. Invece viviamo insieme nella stessa spirale, con corpi diversi, voi terreni e noi senza corpo terreno. Viviamo insieme in questa spirale e ci scambiamo i ruoli, e questo è il significato. Ora voi siete lì, poi noi verremo lì, ma facendo parte della stessa spirale. Questa è la famiglia spirituale. Alcune delle entità spirituali che la formano, per il momento non hanno il corpo e aiutano ad elevarsi quelle che stanno vivendo l'esperienza terrena, ma tutti fanno parte della stessa famiglia. Ecco perché ho detto che preferiamo parlare di spirale invece che di piani di esistenza, perché oggettivamente nella spirale esiste una continuità facente parte del tutto con ruoli diversi. Invece, se si parla di piani di esistenza, si dà l'idea di piani con entità diverse per elevazione, e ciò non vi fa comprendere che siamo uniti in un sol tutto. Quindi la spirale, come la intendiamo noi, non vuole indicare chi per elevazione è più in basso o più in alto. Abbiamo preferito una spirale unita e orizzontale per farvi comprendere che siamo umilmente davanti a Dio tutti uguali. Pertanto, la raffigurazione di spirale in senso verticale è più logica nel campo terreno, ma in questo caso preferiamo la nostra immagine di spirale, che comunica un'idea di unione senza alcuna graduatoria di elevatezza. La spirale contiene il sentire assoluto, ma non tutti la percepiscono allo stesso modo. Non esiste una gara spirituale, intesa come gara sportiva.